Individuato e denunciato in stato di libertà per lesioni personali, il presunto autore delle aggressioni avvenute a Manduria il 3 aprile alla fermata del bus di Piazza Vittorio Emanuele. Si tratterebbe di un 17enne che vive nella città messapica, originario di un'altra provincia, probabile protagonista anche di altri ripetuti atti di bullismo che da tempo seminerebbero il terrore tra gli studenti pendolari. Le indagini condotte dagli agenti del locale commissariato di polizia di stato di Manduria con il coordinamento della procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Taranto hanno permesso di risalire al minorenne grazie alle testimonianze dei presenti e dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza del circuito pubblico e privato che hanno ripreso la scena della violente lite che ha coinvolto quattro studenti, tutti maruggesi tra i 15 e i 18 anni. Prima insulti, poi spintoni al capolinea, tra chi saliva e scendeva il bus, poi la lite sanguinosa sull'asfalto e un pugno in pieno volto al 15enne costatogli un ricovero in neurochirurgia al Santissima di Taranto per un trauma commotivo e una ferita profonda ad una guancia. Intanto la posizione del presunto autore dell'aggressione è al vaglio della procura per i minorenni del Tribunale per i Minori di Taranto.